Lo sportello del cittadino si trova a Taranto in piazza Federico Fellini per capirci alla fine di via Blandamura appunto alle spalle della concattedrale. Vedete una zona abbastanza desolata quindi sembrerebbe tutto tranquillo a quest'ora ma nelle ore notturne dalle 11 mezzanotte in poi forse anche un po' prima si scatena davvero l'inferno nel senso che c'è un gran numero di persone che bivaccano, che creano assembramenti, che si ubriacano, che lasciano bottiglie e quant'altro che fanno schiamazzi e rumore e sembra davvero che il covid non esista per loro. Una situazione raccapricciante soprattutto per gli abitanti che abitano nella zona e che non trovano pace ma al di là della tranquillità, del voler riposare, parliamo di una questione di sicurezza. Soprattutto considerando, lo ripeto, l'emergenza covid e il divieto assoluto di assembramenti. Non capisco perché i bar debbano chiudere alle 18, i ristoranti idem e poi qui ci possa essere il bivacco e gli assembramenti più incredibili. Numerosi cittadini della zona mi hanno segnalato la problematica. Sono state allertate le forze dell'ordine, vigili urbani, polizia di stato, carabinieri, guardia di finanza, insomma le forze di polizia responsabili dell'ordine pubblico e della sicurezza, ma evidentemente non c'è stato alcun riscontro. Gli interventi non so se ci sono stati, sta di fatto che anche se ci sono stati si sono rivelati assolutamente inefficienti, nel senso che non è cambiato nulla. La gente è esasperata, ci troviamo in uno stato di diritto e mi domando per quale motivo non venga applicata la legge. Stiamo parlando di sicurezza e stiamo parlando di sicurezza in un momento davvero drammatico, tragico, quale è quello della pandemia. Assembramenti di ogni specie, bivacchi, sporcizia, gente che si ubriaca, insomma l'inferno è qui, presso i giardini fellini, nelle vicinanze di via Blandamura a Taranto. Signori delle forze dell'ordine intervenite. Capito?